Salve, nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura inglese del Novecento e di uno dei più grandi romanzi del ventesimo secolo, vale a dire William Golding e del suo romanzo più importante e più conosciuto intitolato Il Signore delle Mosche. William Golding, per entrare direttamente all'interno della sua biografia, era nato in Inghilterra, in Cornovaglia, nel 1911. La sua famiglia proveniva tra l'altro da un ambiente molto impegnato anche a livello politico perché il padre era dirigente di una scuola elementare che era vicino alle istanze socialiste e all'idea del progresso, così come sua madre invece che addirittura apparteneva al movimento delle suffragette. Sappiamo infatti che dopo una laurea conseguita nel 1935 lui si trasferisce a Londra dove si avvicina in quel periodo al pensiero di Rudolf Steiner, infatti quindi al pensiero dell'antroposofia, che eserciterà anche una certa influenza nella sua letteratura, che proprio in questo momento lui deciderà di arruolarsi, di entrare nell'esercito inglese e di combattere, tanto che infatti farà quasi tutta la guerra perché parteciperà anche allo sbarco in Normandia, quindi veramente vedrà la guerra in tutte le sue manifestazioni più terribili. Proprio dopo la fine del conflitto lui comincerà a dedicarsi alla letteratura. Inizialmente si dedicherà molto alla poesia, anche al teatro, che era un'arte che lui amava molto, e il suo primo romanzo è proprio questo che oggi commenteremo, Il Signore delle Mosche, Lord of the Flies, come è stato, come è il titolo in inglese. Romanzo tra l'altro è il titolo che venne anche consigliato da T.S. Eliot, che all'epoca era uno dei massimi esponenti di questa casa editrice inglese che pubblicherà appunto questo romanzo. Romanzo che ebbe subito un successo strepitoso, tanto che arrivò a vendere oltre 14 milioni di copie solo in Inghilterra addirittura, e che in qualche modo consegnò Golding direttamente nella storia, in qualche modo, della letteratura. Tanto che infatti questo testo divenne, assieme al giovane Holden di Salinger, che era di qualche anno prima, del 51, come la lettura prediletta anche dei giovani studenti universitari di quegli anni. Sappiamo che poi infatti Golding continuerà la sua carriera anche pubblicando tanti altri grandi romanzi, però nessuno sicuramente che sia riuscito poi a raggiungere il livello di popolarità, anche di qualità di questa prima opera. Pensiamo che è stato questo testo anche un'influenza ebbe non solo a livello letterario, ma anche proprio nella cultura popolare. C'è una famosa canzone anche degli Iron Maiden che si intitola appunto Lord of the Flies, che è appunto ispirata a questo straordinario romanzo. Golding tra l'altro poi otterrà diversi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Nobel per la letteratura nel 1983. Morirà poi successivamente nel 1993 appunto nel Wiltshire, una regione dell'Inghilterra. Entrando direttamente a commentare questo straordinario romanzo, che come abbiamo visto venne scritto intorno ai primi anni 50, pubblicato proprio nel 1954, bisogna in qualche modo fare una premessa. Golding, come abbiamo visto, è stato un autore impegnato anche durante la guerra, un autore quindi che aveva visto e misurato con i propri occhi gli orrori del conflitto mondiale. Infatti questo romanzo è ambientato proprio durante lo svolgimento di una guerra globale, per quanto non venga ben specificato a quale conflitto si riferisca, è evidente comunque che i riferimenti sono al secondo conflitto. La storia, per entrare direttamente nella trama, racconta questo, analizza il comportamento di questo gruppo di studenti inglesi che in seguito a un disastro aereo viene abbandonato su questa isola tropicale durante un conflitto, un conflitto planetare, durante appunto una guerra mondiale. Dopo i primi tentativi da parte di questi giovani, che inizialmente vengono anche coronati dal successo, cioè di dare vita a una società organizzata in maniera democratico, quindi un po' come era per certi versi l'inizio anche se vogliamo della fattoria degli animali di Orwell, che non a caso è proprio di quegli anni lì, dove all'inizio sembra che effettivamente venga su questa isola, si riesca veramente a coronare il suo sogno anche di il mito del buon selvaggio, dello stato di natura come era stato teorizzato dai grandi scrittori dell'Ottocento, come Stevenson nell'Isola del Tesoro, come Defoe nel Robinson Crusoe. Successivamente però questa utopia, quest'idea di creare un'isola felice purtroppo si andrà a scontrare con la realtà, perché successivamente le tensioni, le invidie, anche la malvagità potremmo dire, all'interno di questo gruppo, i giovani cominciano ad esplodere in maniera sempre più drammatica fino poi a delle conseguenze estreme che non staremo qui a rivelare per chi voglia leggere questo romanzo. Quindi in questo romanzo vediamo subito come Golding metta in seria discussione l'idea espressa invece, come abbiamo visto, da altri autori ottocenteschi che nello stato di natura, all'uomo, mancando ovviamente le caratteristiche tipiche che porterebbero a un conflitto come la divisione, come l'idea di classe, l'idea di classe sociale che era la base ovviamente del conflitto tra gli esseri umani, mancando queste sovrastrutture l'umanità possa in qualche modo vivere in pace. Golding non è del tutto di questo parere, perché le motivazioni sono tendenzialmente due. La prima critica che viene presa in considerazione sta proprio nell'idea che il progresso e l'uso della tecnica, come viene appunto adempiuta dall'Occidente, possa in qualche modo risolvere i problemi del mondo. Questa è stata un'idea che per molto tempo ci ha accompagnato e accompagna tuttora una parte dell'umanità. L'idea che il progresso porti poi ad un miglioramento non soltanto delle condizioni materiali, ma anche delle condizioni sociali e potremmo dire anche spirituali dell'essere umano. Questa è una chimera che si è dimostrata falsa poi nel corso della storia, perché il progresso al contrario ci ha allontanato anche da noi stessi. Nel momento in cui noi possediamo più cose, abbiamo più oggetti, quindi siamo anche più evoluti da un punto di vista materiale, abbiamo anche perso nello stesso tempo la capacità di guardare in quello che noi siamo realmente. Quindi ci siamo troppo civilizzati, ma poco nello stesso tempo evoluti da un punto di vista spirituale e etico. E nello stesso tempo Golding mette anche in discussione l'idea, il concetto, che questo è anche l'aspetto che ha forse avuto più successo nel mondo inglese, nel mondo anglosassone, dell'idea del peccato e dell'interpretazione del male. Perché il male, secondo la visione ortodossa che per molto tempo noi abbiamo avuto e che per certi versi ancora oggi molti hanno, il male è sempre qualcosa che viene dall'esterno. I cattivi sono sempre gli altri, non siamo mai noi. Invece Golding ribalta questa visione, qua si vede anche l'influenza ovviamente di Steiner, anche del pensiero teosofico. Cioè il male non è qualcosa che proviene necessariamente dall'esterno, ma il male è qualcosa che tutti noi abbiamo dentro di noi. Ecco qui questa famosa frase che in qualche modo ha reso anche immortale questo romanzo, una frase molto emblematica, quando Golding scrive, l'uomo produce il male come le api producono il miele. Il che non deve dare adito ovviamente ad una visione pessimista del nostro autore, ma l'idea stessa che il male siamo tutti, in noi tutti è presente il bene e il male, siamo santi e peccatori nello stesso tempo. Il problema si viene a verificare quando noi crediamo che siano soltanto gli altri ad aver torto, questa visione che è tipica del mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, questa visione appunto di essere messianica, di essere i paladini della giustizia che purtroppo l'America ha da sempre avuto, e vediamo poi che conseguenze tragiche una simile visione ha nel corso della storia, nel momento in cui non ci crediamo buoni e dobbiamo di conseguenza convertire gli altri, ed è quello che avviene esattamente nel nostro romanzo. Si cominciano a creare i conflitti, si cominciano a creare le divisioni, anche in questo gruppo di giovani studenti, non a caso ovviamente anche il clima della guerra, perché il romanzo è ambientato durante la guerra, è presente, la guerra non è soltanto qualcosa che scoppia così per colpa di qualche folle dittatore, chiaramente quella è la scintilla, è la goccia che fa trabocchiare il vaso, la guerra è qualcosa che noi tutti abbiamo dentro, noi siamo potenzialmente dei carrefici, tutti noi siamo dei potenziali assassini, tutti noi possiamo fare del male in qualsiasi momento, ed è per questo che è fondamentale guardare in noi stessi, farci tutti una serie analisi di coscienza, guardarci allo specchio e guardare il mostro che abbiamo dentro, guardare quelli che sono, non diremo i nostri difetti ma i nostri comportamenti, come ci rapportiamo, in che modo agiamo, piuttosto che giudicare agli altri, com'è purtroppo la tendenza tipica dell'essere umano, non a caso il Vangelo ribadisce proprio questo concetto, non giudicate, non sarete giudicati, nel momento in cui noi invece giudichiamo, puntiamo il dito verso una parte, circoscriviamo in qualche modo una porzione di realtà che vediamo malvagia, ecco lì che è presente la radice di tutti i conflitti. quindi la consapevolezza che dentro noi tutti c'è questo potenziale nemico da combattere, perché il vero nemico siamo noi stessi, questo è anche il significato fondamentale di questo straordinario romanzo che rimane perennemente attuale. Il problema è che questo non avviene nel mondo perché la maggioranza degli esseri umani è dominata dall'ego e l'ego è il vero scoglio da superare. L'ego è quello che ci fa vedere gli altri come i nostri nemici, che non ci fa vedere gli altri come dei nostri fratelli, come delle persone, come degli esseri umani esattamente come noi che stanno facendo la propria evoluzione, ma ci li fa vedere sempre secondo un'ottica che è quella che a noi ci fa più comodo. Chiaramente vincere l'ego, superare l'ego, controllarlo ovviamente, dominarlo. Questa è la grande sfida che si richiede. Ecco perché io personalmente, e questo è anche un invito che faccio a quei pochi che ascoltano, invito sempre a diffidare di quelle persone che tendono a mettersi in mostra, che amano parlare solo di se stesse, che amano appunto essere egocentriche, dove tutto il mondo ruota soltanto intorno ai problemi loro o alle proprie questioni. La persona invece umile, semplice, che non parla quasi mai di sé, che ama sempre parlare di altro, degli altri, di quello che gli altri fanno piuttosto che parlare della propria miseria, quella è una persona che sicuramente è una persona che ha superato lo scoglio dell'ego. Questo è anche un aspetto fondamentale di questo straordinario romanzo. Il male non può essere visto soltanto come proiezione di quello che sono gli altri, di quello che non ci piace. Il male è un prodotto che abbiamo in noi. Quindi anche questo elemento iniziatico, se vogliamo, che è presente in questo straordinario testo, non a caso il titolo Il Signore delle Mosche è una metafora per indicare il demonio. Anche qui un altro tema che, come vediamo nella letteratura inglese, ritorna spesso da Milton in poi. Quest'idea appunto che il diavolo non è qualcosa, un'entità estranea, ma è un'entità che abbiamo dentro di noi, esattamente come Dio. E quindi questi due poli dobbiamo in qualche modo farli, diciamo così, saperli far armonizzare, saper armonizzare quella parte oscura che se è presente vuol dire che un motivo c'è. Il motivo è ben preciso, è quello di mostrarci quelli che sono i nostri limiti, di farci vedere dove noi sbagliamo e dove dovremmo correggerci. Questo infatti è forse il significato più importante di questo romanzo. Un testo che rimane di grande attualità è che spero che molti che chiaramente non conoscono Golding e che non hanno magari mai letto questo libro o che magari l'hanno sentito solo di nome, possano andare a leggere uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura del Novecento. Grazie.